La nostra scommessa era quella di portare l'X70 a un livello di lusso superiore rispetto alle precedenti. Ogni materiale dal tessuto, dalla scelta dei tessuti, che sono sete, che sono cashmere, cuoio, che è un cuoio di un brand universalmente riconosciuto come top brand, ci siamo attenzionati particolarmente su una qualità altissima. Quindi ci siamo rifatti a qualcosa che richiamasse fortemente la natura e le origini di Prestige, quindi la Francia, alla Francia degli anni 50 e 70 in un contesto che fosse quello che richiamasse Saint-Tropez. Quindi un Saint-Tropez anni 50 per quello che potesse essere la concezione di lusso, quindi un lusso non ostentato, ma un lusso sussurrato, un lusso che scorre nel DNA di questa nuova X70. E per quanto riguarda invece la Saint-Tropez degli anni 70, ci piaceva l'idea di queste forme, di queste geometrie, di questi colori, che non erano tipicamente quelli che uno si aspetta per forza in uno yacht, quindi il classico azzurro, i classici beige, ma ad esserlo anche loro la cifra di questo nuovo lusso un pochino più geometrico, un pochino più domestico.